Buongiorno e benvenuti al TG Tech di Cusano News 7, oggi ho una puntata un po' particolare perché parleremo di un curioso aneddoto che è occorso a un collega, il collega Sergio Ferraris che è in collegamento con noi, intanto buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, diciamo un curioso aneddoto di cui hai parlato in un post lanciato su Facebook, un post che racconta un episodio che è avvenuto fra te e tuo figlio, 15enne, una ricerca scolastica che sembrava un po' troppo perfetta, una ricerca scolastica che sembrava scopiazzata da qualche sito e invece non era scopiazzata ma era stata scritta attraverso un altro sistema. Spiegaci di chi si tratta. Sì, diciamo che quando mio figlio mi ha portato a stampare questa ricerca io ci ho dato un'occhiata e facendo il giornalista un po' diffidente ho detto hai fatto un buon copia in colla da internet e lui mi ha detto no, ho usato l'intelligenza artificiale. Ha usato un sistema di cui si sta parlando parecchio che è il GPT Chat, erede del GPT-3 che c'era fino a qualche mese fa, che è un'intelligenza artificiale semantica. Cioè mettiamo una frase, una riga, una riga e mezza e lui produce un testo. Si tratta di una cosa che sostanzialmente viene già usata parecchio e di cui ho parlato in un articolo più diffusamente per quanto riguarda gli usi giornalistici. Il paradosso di tuo figlio è che ha sfruttato proprio il tuo articolo per utilizzare questa risorsa. Esatto, cioè parlando dell'articolo a tavola lui è stato stimolato, se l'è andato a vedere, d'accordo, e dopodiché ne ha trovato un'applicazione pratica, in pratica, ha fatto fare una ricerca a un algoritmo di intelligenza artificiale. Allora, che fare in questo caso, se il vostro figlio si comporta così? Fosse stato un mero copia e incolla, francamente gli avrei detto no, rifarla. Però in realtà qui abbiamo una generazione che si allena a usare questi strumenti, per cui bisogna porsi un problema diciamo più vasto. Questi strumenti, intelligenza artificiale, e parliamo di strumenti che avranno un impatto notevole sul lavoro della conoscenza, cioè di tutti coloro che usano l'intelletto sostanzialmente per lavorare. Allora, il caso dei giornalisti per quanto mi riguarda, ma i grafici per esempio, perché questa stessa intelligenza artificiale io metto una stringa di testo e produce una grafica che poi è perfezionabile mano a mano centrando meglio l'obiettivo, i traduttori, gli interpreti in altre lingue, insomma molte ma molte professioni della conoscenza, lavori della conoscenza potrebbero venire sostituiti oppure aiutati nel loro lavoro da questi sistemi. Bisogna approcciarsi in una maniera laica, da un lato per esempio nella comunità dei grafici a livello internazionale e anche a livello nazionale c'è chi dice no, facciamo fare affinché gli editori non possano usare per legge questi strumenti, mentre invece ci sono altri grafici che si stanno specializzando nel diventare dei grafici che utilizzano l'intelligenza artificiale, ossia ottenere opere grafiche usando questi sistemi, come in realtà è nella storia della tecnologia. D'accordo, noi abbiamo avuto a ogni passo, parlo del giornalismo che è il settore che conosco meglio, di avanzamento tecnologico, delle resistenze oppure degli adattamenti. Per esempio la grafica editoriale, all'inizio la grafica si faceva a mano, invece poi sono arrivati strumenti come Photoshop e altre cose, sempre più raffinati sotto questo profilo. La questione di fondo è, questi strumenti dovranno stare in mano a pochi che le daranno l'occupazione sostituendo il lavoro umano oppure dovranno stare in mano a molti che lo useranno per facilitare il proprio lavoro, perché la domanda di fondo è sostanzialmente questa. Sì, ed è un problema che giustamente ricordavi tu, un problema annoso, addirittura secolare, perché già dai tempi dei telai e dei luddisti le nuove tecnologie hanno sempre spaventato e hanno spaventato al punto tale da provocare anche delle rivolte in qualche caso. Qui però secondo me interviene anche un altro fattore, perché oltre al problema dell'occupazione, cioè quanto questi strumenti aiuteranno le professioni e quanto invece toglieranno lavoro a molte figure professionali, c'è anche un elemento educativo, visto che l'episodio interessa un ragazzo di 15 anni. Si è parlato nei giorni scorsi, è scoppiata ad esempio una polemica sull'uso dei cellulari in classe, e qui andiamo oltre, cioè stiamo al cellulare 2.0, anzi 4.0, cioè siamo all'intelligenza artificiale che potrebbe essere però andare a detrimento dell'apprendimento. Dipende di quale tipo di apprendimento parliamo. Se parliamo di un apprendimento nozionistico, è chiaro che l'intelligenza artificiale è una stampella fantasticamente efficiente, d'accordo, che ci permette di acquisire nozioni senza nemmeno impararle sostanzialmente. Ecco, l'insegnamento da questo punto di vista dovrebbe, a mio modesto parere, spostarsi più che sulla nozione, sul metodo per affrontare le cose, per il problem solving, per risolvere problemi, perché tenete conto che la mia generazione, ma anche specialmente quella dei nostri figli, ha un accesso alla conoscenza come non c'è mai stato nella storia umana. Anche senza intelligenza artificiale, con un motore di ricerca, noi possiamo accedere a ricerche scientifiche, articoli, immagini e quant'altro in una maniera veramente incredibile. Io faccio il giornalista da 35 anni e devo dire che la semplicità con la quale ho accesso a fonti, anche qualificate come le ricerche scientifiche, d'accordo, è incredibilmente più semplice rispetto a 35 anni fa. e già vivevamo in un universo mediatico sviluppato, d'accordo. Ecco, bisogna che la formazione si adatti a questo nuovo universo che esiste e, aggiungo io, la formazione deve anche e soprattutto sviluppare nelle nuove generazioni lo spirito critico, la questione di fondo è che la scelta dello spirito critico in realtà può spostare degli equilibri di potere perché le persone che hanno uno spirito critico sono persone, diciamo, votate alla democrazia. per cui voglio dire, in alcuni stati, diciamo, esteri dove la democrazia non va proprio di moda infatti ci sono fortissime limitazioni già a internet e ne arriveranno sicuramente verso questi algoritmi. Quindi stai un po' ribaltando quello che è la narrazione che spesso invece si sente cioè che è proprio l'intelligenza artificiale, l'uso di queste nuove tecnologie che potrebbe andare a limitare la democrazia. Mentre invece tu stai dicendo che è un tipo di strumento che potrebbe agevolare anziché bloccare lo spirito critico e quindi lo spirito anche democratico delle nuove generazioni. Mi sembra una lettura abbastanza interessante anche se un po' in controtendenza rispetto ad altre di tutt'altro segno che sugli stessi temi si sono sentiti in questi ultimi mesi e anni. Allora, la questione di fondo non è tanto la tecnologia. La tecnologia è fondamentalmente neutra, d'accordo? E l'uso che se ne fa è soprattutto l'accesso. Vi faccio un esempio. Noi europei utilizziamo per cose fondamentali nella nostra vita democratica come l'informazione, il reperimento di conoscenza, la cultura, la politica dei sistemi che non sono il male assoluto in sé, d'accordo? Che però sono alieni alla cultura europea. Cioè sono dei sistemi che vengono gestiti negli Stati Uniti dove c'è un'altra cultura rispetto a questo. E rispondono questi algoritmi all'impostazione di quella cultura. La follia europea in soldoni è il fatto che l'Europa non si stia dotando di sistemi software e di algoritmi che gestiscono queste cose fondamentali in maniera autonoma e che rispondono alle esigenze europee. Una ricerca su un elemento culturale, per fare un esempio, fatta con Google risponderà a determinati criteri di aggregazione, d'accordo, fatta dalla cultura anglosassone che è diversa da quella europea. Prima cosa. Seconda cosa, l'accesso a questi strumenti, che a mio modesto parere non possono essere in mano ad aziende private, ma devono essere pubblici, deve essere orizzontale, non deve esserci distinzione di censo, di accesso, barriere tecnologiche all'accesso. Ecco, risolvendo queste due questioni, volendo rimanere a casa nostra in Europa, in realtà queste nuove tecnologie possono essere delle enormi possibilità. Questo mi sembra veramente un argomento molto interessante, perché per esempio una delle polemiche che è scoppiata in questi ultimi anni anche ha riguardato l'utilizzo dei social, proprio questo tema della mentalità americana, degli algoritmi ideati negli Stati Uniti che spesso hanno un tipo di approccio molto diverso, come giustamente facevi notare tu rispetto a quella che è la cultura europea. Ricordo gli esempi di alcuni utenti di Facebook che sono stati bloccati per diverso tempo, per aver postato, che so, una venere del Botticelli, piuttosto che un quadro di Courbet, perché rappresentavano dei nudi, anche se dei nudi artistici, che la nostra cultura accetta da secoli senza alcun problema. Secondo te perché l'Europa è così indietro? Non solo indietro, sembra proprio che non si ponga questo problema. L'Europa non si pone questo problema perché non ne ha coscienza diretta da questo punto di vista. Viviamo in Europa una sorta di complesso di inferiorità verso la cultura anglosassone, per prima cosa, e poi anche per una questione di costi, cioè montare dei social network o montare dei sistemi di ricerca complessi che possano reggere nei fatti il confronto con i sistemi anglosassoni e americani è una cosa relativamente costosa. Non tantissimo in realtà, perché in Unione Europea abbiamo 23 paesi, se 23 paesi mettessero 200 milioni di euro ciascuno l'anno, che per il bilancio di un paese è una cifra abbastanza, molto, ma molto piccola, andremmo a finanziarsi infrastrutture tecnologiche nostrane, diciamo, per cambiare l'anno, che non è uno scherzo. Il problema è rendersi conto di questa questione. Io voglio fare un piccolo esempio delle conseguenze pratiche. Qualche tempo fa sotto la presidenza Trump c'è stata una guerra commerciale, come c'è ancora oggi, da parte degli Stati Uniti verso la Cina. A un certo punto la presidenza Trump ha detto basta fornire il sistema Android alla Huawei. E Google, che è un'azienda privata, si è tranquillamente spalmata a zerbino su questa cosa e non ha dato più gli aggiornamenti agli smartphone della Huawei, con il risultato che ha fatto perdere enormi quote di mercato a quello che rischiava di diventare il terzo fabbricante di smartphone al mondo. Per una questione commerciale barra militare, perché era sulla questione dei 5G. Ecco, nel momento in cui noi e Europa dovessimo avere degli interessi anche commerciali d'accordo opposti o in contrasto con quelli degli Stati Uniti, e avvenisse un diktat da parte di un presidente degli Stati Uniti verso un'azienda privata che fornisce sistemi all'Europa, avremmo un blackout. Un blackout non indifferente per l'Italia, che nel periodo in cui si è dovuta fare la DAD, d'accordo, per cui l'istruzione si è affidata mani e piedi a Google sostanzialmente, per cui l'istruzione a distanza è in mano a Google. Se noi dovessimo avere un qualsiasi problema di tipo commerciale con gli Stati Uniti, d'accordo, e ci fosse questa dicitata, noi non avremmo più informazioni a distanza nelle scuole pubbliche italiane, perché si sono affidata questa piattaforma. A me sembrano questioni cruciali e mi sembra incredibile che la politica europea e a cascata quella italiana non se le pongano. Sono assolutamente d'accordo con te, Sergio, e anch'io me lo sto chiedendo da qualche tempo, perché in realtà di queste tematiche si parla, direi, almeno da una quindicina d'anni, forse anche di più. Quindi il tempo per la politica europea e a cascata italiana, come dicevi giustamente tu, di quantomeno prendere coscienza di queste tematiche e poi trovare una qualunque forma di soluzione c'è stato. Ma è una difficoltà culturale della classe politica a questo punto, non soltanto nostrana? Beh, è una difficoltà culturale legata a una difficoltà di comprensione delle tecnologie. Non ci si rende conto di quanto queste tecnologie siano pervasive, per cui per l'Europa probabilmente non è un'emergenza. Faccio un confronto di cui mi occupo. L'Europa ha avuto coscienza del fatto che il cambiamento climatico è un problema e si è data degli obiettivi anche molto ambiziosi. E questo è giusto, assolutamente condivisibile. Il problema fondamentale è che con ogni probabilità l'Europa non ha per ora le persone in grado di guidarla nel percepire questi rischi che sono sostanzialmente immateriali e poi c'è di fondo il presupposto da parte dell'Europa, diciamo della cultura europea, che queste tecnologie siano positive in tutti i sensi. Sono positive se vengono guidate e ci mettiamo al riparo da rischi se conosciamo i meccanismi con i quali funzionano. In questo senso il codice con cui funzionano questi sistemi deve essere reso pubblico in maniera che chiunque possa averci accesso e vedere che cosa c'è dietro gli algoritmi. Perché teniamo conto che nel momento in cui noi abbiamo la diffusione dell'informazione e della pubblicità che è concatenata, legata agli algoritmi, in questa maniera si possono fare degli interventi molto ma molto radicali cambiando alcune righe di codice, d'accordo, mandando in crisi settori economici oppure anche informativi da questo punto di vista. Noi abbiamo l'informazione, sia quella cartacea, scusate, sia quella informazione dai giornali e media, sia quella professionale che passa tutta attraverso internet e passa tutto attraverso algoritmi. Noi dobbiamo arrivare, come dice il mio collega Michele Mezza, che affronta assieme a me queste questioni, a negoziare l'algoritmo nel momento in cui è un'azienda privata oppure a crearlo nel momento in cui ad affrontare questa questione è un'azienda pubblica. Ora, devo dire che l'Italia dà dei segnali preoccupanti sul fronte delle nuove tecnologie. La notizia dell'altro giorno del fatto che si vuole abolire lo speed quando iniziamo ad avercelo tutti, iniziamo a usare servizi digitali con la pubblica amministrazione grazie allo speed, Dan Bleu, che non si capisce per quale motivo, è molto preoccupante come atteggiamento. Va bene diffondere ulteriormente magari l'intenzione del legislatore era questa, i sistemi digitali attraverso la carta di identità digitale, ma i sistemi andrebbero affiancati almeno per 5 o 6 anni sotto questo profilo. Insomma, è tutta una complessità che entra all'interno del digitale che deve essere affrontato, secondo me, dalla mano pubblica e deve essere affrontato con autonomia di sistemi e sistemi che siano aperti, visibili, interpretabili in quello che fanno. Terzo, è sempre un piacere parlare con te e soprattutto di questi argomenti a mio avviso cruciali e che spesso si sottovalutano. Grazie ancora per il tuo intervento. Grazie mille, grazie ai telespettatori. E i telespettatori li ringrazio anche io per averci seguito. Grazie ancora e buona prosecuzione su Cusano News 7. Grazie a tutti i nostri spettatori